Arturo De Felice è il nuovo prefetto di Caserta. Già da alcuni giorni nel capologo, oggi ho incontrato la stampa locale. Ben quattro le priorità del nuovo prefetto, dalla criminalità organizzata all'emigrazione ancora, l'emergenza ambientale e il dramma della disoccupazione. La criminalità organizzata nella provincia di Caserta ha subito dei grossi colpi dal punto di vista delle iniziative della forza di polizia, ma soprattutto dalla parte della magistratura che ha in pieno accolto le tesi investigative dell'arma dei carabinieri, delle polizie di Stato e della Guardia di Finanza. Quindi stiamo vivendo un momento, diciamo, di transizione perché sicuramente dovrà continuare questo impegno sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata e vorrei sottolineare dell'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati. Per quanto riguarda il problema lavoro, ovviamente la prefettura svolgerà al meglio il suo ruolo di mediazione, di collegamento con l'autorità centrale di Roma, ma soprattutto di ascolto del territorio perché ritengo che prima di poter affrontare compiutamente un problema bisogna avere le idee chiare e quindi sarò molto attento a quelle che saranno le istanze che mi verranno rappresentate per poterle poi meglio rapportare a Roma. Per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, come abbiamo più volte sottolineato, è un'emergenza nazionale. La nostra è una provincia che è investita, procuota, in maniera quasi quotidiana di questi arrivi. Fortunatamente fino ad oggi la prefettura è riuscita a far fronte a tutte le richieste che sono state formulate. Sicuramente ci organizzeremo perché si può fare di più, non forse da parte nostra ma da parte delle altre istituzioni sul territorio che non mancheranno di rispondere. Io sono ottimista per natura e che in questa fase emergenziale che il Paese sta attraversando non si vorranno sottrarre a dare il loro contributo su cui noi contiamo e su cui insisteremo. E' una questione sempre aperta, una questione su cui l'impegno specifico delle forze deputate, in particolare il Corpo forestale dello Stato con cui ho già avuto un primo incontro con i responsabili provinciali, sicuramente merita una continuità di questo impegno perché sono fenomeni che incidono sulla salute del cittadino in maniera diretta e in maniera soprattutto esponenziale perché potrebbe provocare anche danni ulteriori a quelli già fatti. E' una delle priorità come lei ha accennato che metteremo in cantiere e su cui speriamo di dare risultati positivi a breve. Già lavoro come è giusto che sia perché quando si arriva in una nuova provincia, in una nuova realtà bisogna più presto acquisire i fondamentali di quelle che sono le problematiche del territorio e credo che l'unico modo sia confrontarsi, ascoltare, dialogare per poi ovviamente arrivare alla fase decisionale e prendere delle decisioni. Ma tutto questo deve avvenire step by step andando avanti a secondo delle varie fasi e credo che la riunione del Comitato di domani sia un primo segnale importante.